Ogni anno è sempre la stessa storia. Ogni anno è sempre la stessa storia. Ciao a tutti e benvenuti da me. E' appena finita Shakhtar Donex contro Inter. Un altro pareggio come l'anno scorso. C'è la musica purtroppo non è cambiata. Allora il girone quindi è molto particolare perché se a Madrid battirà lo Sheriff è molto probabile che batta questa piccola squadra. 6 punti, lo Sheriff a 3 e l'Inter a 1, quindi siamo terzi. Però ragazzi lo sfogo che vorrei fare è perché non vinciamo più in Champions? perché c'è Dzeko che si mangia il gol a porta vuota, Piatov che ha parlato pure il nonno, la nonna e le smadonne. C'è però non si può mangiare un gol a pochi metri dalla porta. C'è voi avete preso Eben Dzeko ragazzi, Eben Dzeko deve prendere il posto di Lukaku. C'è un punto, siamo solo la seconda giornata, la prima abbiamo perso proprio a culo, la seconda stecchiamo. C'è ragazzi ma quest'anno dove vogliamo andare in Champions? C'è io sento già gufi, fuori dalla Champions, fuori, svegliatevi perché il girone non è come quello dell'anno scorso. C'è una piccola squadra e la prossima vai a giocare in Moldavia e se perdi pure questa non so cosa succederà. Però, Pattior ha presupposto che l'Inter ha attaccato solo in minuti finali. Lautaro pure ha fatto occasioni, Piato non ne parliamo come ho detto prima. C'è lo Shakhtar non ha giocato per niente. C'è solo così. Non so cosa posso dire ragazzi. Un punto e un gol subito. Siamo pure fortunati. Pure fortunati. Quindi, la prossima o ce la giochiamo oppure, ciao. Perché non vogliamo la quarta eliminazione consecutiva della Champions. Cioè, se facciamo questa decodimenta quest'anno, c'è veramente che in Champions proprio non andiamo avanti. La squadra non gira. Poi per un paio dei campi. C'è perché Gariardini, Correa, questo, questo. Cioè, metteva un attaccante a posto di Gigo. Cioè, mi ha messo Lautaro e Correa. avremmo vinto. Avremmo vinto. Non so come vedrò questa partita. Non so come vedrò questa fase a gironi. Perché veramente facciamo cagare. Siamo campioni d'Italia. E l'anno scorso, Eriksen, Hakimi, Lukaku. Pure 0 a 0. Lukaku prende traversa. Lautaro che sbargò a porta vuota. Cioè, ma dove vogliamo andare? Wallyu. Io sono in derista. Ma quest'anno, in Champions, vogliamo andare agli ottavi. Vogliamo andare agli ottavi di finale. Cioè, ci cerchiamo in secondo posto. O battiamo lo chakra dello sheriff, oppure andiamo in Europa League. Perché tanto qua, ormai noi due possiamo andare. Quindi, 0 a 0. Occasioni sprecate e andiamo a in Europa. No, non so come vedrò.